Musica Ciao a tutti ragazzi siamo Remy e Molly Aspetta aspetta Tu che stai guardando il video Non sei iscritto ancora malissimo Ti devi iscrivere cosa stai aspettando Iscrivetevi se non vi siete iscritti Soprattutto lasciate subito un bel like a questo video Allora ragazzi Oggi dobbiamo cercare di rompere Questo giocattolo siete pronti A me piaceva un sacco questo gioco Da piccola perchè non mi ricordo lui E' preciso quando si doveva dare Le botte a questo pupazzo che volava E poi quando finalmente si apriva Uscivano un sacco di caramelle Coriandoli ma quella è la pignata Esatto non è uguale No non è una pignata questo qui è un giocattolo indistruttibile Noi dobbiamo cercare Ma se è indistruttibile come facciamo a distruggerlo E oggi ci proveremo Vai iniziamo a distruggere Proviamo guarda colpiamolo E adesso colpiamolo diamogli i pugni Ma non gli stai facendo niente Beccati questo pupazzetto No Ma no ma poverino L'abbiamo messo a K.O. e non ci ha dato neanche le caramelle L'abbiamo messo a terra Vediamo abbiamo un regalo Duecento Duecento bucks va bene Ok no è rinato No Rilasci Questo giochino è resuscita ogni volta Va bene Allora vediamo tiriamo questo No abbiamo delle armi da usare Vai 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 Ok staff Prendiamo vediamo Possiamo comprare qualcosa Cosa prendiamo? Proviamo con queste Vai ok Proviamo con la berretta No la pistola Vediamo No Ok proviamo a colpirlo No ok attenzione Dobbiamo spingere con la pistola Vai Colpiamolo Colpiscilo Attento Oh mio dio non riesco a colpirlo Eh ma perché lo devi spostare dove ci sono i proiettili Vai 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 Spostalo verso i proiettili Vieni qua Vieni qua piccoletto Eh piccoletto L'avanti Guarda Proviamo con questo No molli con quello No 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 poverino Ok ok Questo giochino è un po' violento Cioè no ma la pignetta è più divertente Perché almeno dopo ti prendi le caramelle No Invece qui non c'è scopo Allora Reby Scegli la tua arma Ogni volta Ogni volta che lo mettiamo KO Si darà più soldi Voglio un missile Guarda lanciamogli le No gliele lanciarne Le lanciate i missile Sì Sì Un sacco di missile No povero bubasta Ai cerotti Oh mio dio Sì L'ho fatto esplodere Attenzione Ma poverino Un missile qui Ma non è un missile Reby Sono delle granate Sono delle granate Poverino No vabbè ma si è autocurato È fortissimo Non riusciamo Sconfiso L'ha schivata No ha schivato la mia granata Aspetta voglio provarsi io No Mettiamone in un sacco Mettiamone in un sacco Così 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 Adesso esploderà Sì Prova Reby Ce l'hai fatta Ce l'ho fatta Una caramella per favore Niente caramella È il mio turno No 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 Tocca me No no una testa Voglio questo Voglio questo Aspetta proviamo Proviamo un'altra cosa Aspetta con quello sotto No ho rimesso la granata Riproviamo un'altra cosa Ma comunque Sai le unghie troppo lunghe Non riesci neanche a cliccare No 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 Voglio un'altra No faccio io Oggetti No 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 Prendiamo le palline colorate Tiriamogli le palline colorate in testa Beccati questo piccolino Adesso come funziona Tiriamogli le palline Tata S habitat Sommersi delle palline Poverino E adesso Tirale una bella palla nella testa Pamm Ancora vai 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 Non gli facciamo nulla Mi sa che Mi sa che non gli stiamo facendo niente Non gli facciamo niente Vabbè Prova a farlo rotolare sulle palline Magari state Vabbè Vediamo Desso lo afferro Beccati No No, l'hai messo il capo con le palline Ok, Molly è stato molto bravo No, un'altra Guarda, allora abbiamo i soldi Direi di comprarci, vediamo, spada Le stelle Le stelle ninja No, non possiamo, diamo un'altra cosa Ok, Reppy, ho preso le stelle ninja, guarda No, ma si sono attaccate tutti a lui No, poverino E adesso cosa facciamo con le stelle ninja? No, poverino Con le stelle ninja è fallito subito Allora, io direi adesso Mitragliatrice No, poverino Oh, questa mitragliatrice non funziona Ok, ancora No, la fasciatura, poverino Mitragliatrice Mitragliatrice No, Reppy, ma l'hai steso, poverino Eh, la mitragliatrice funziona No, Reppy, ma poverino No, negli occhi Le ho tirate in un occhio In un occhio, poverino Ok, ce la sto facendo Ce la sto facendo Attenzione Oh, oh, oh Sta scappando, vuole scappare Sta scappando, sta scappando Non ce la può fare Prendilo, prendilo, prendilo Prendiamolo, prendiamolo, prendiamolo Posso provare? Aspetta, ce la sto facendo, guarda Reppy, ma poverino Ma no, ma si sta salvando Guarda, si sta autocurando Questo giochino Dai, tocca a me Tocca Oh, guarda, guarda No Sì Ok, adesso tocca a te Allora, ragazzi C'è Molly Che non vuole più giocare con me A questi giochi Perché dice che non sono brava A dare le botte E il pupazzo Ma cioè, io non sono abituata Io ai miei pupazzini Di solito gli facevo le coccole Tipo caro E guarda Adesso cosa facciamo Mettiamo una bella mina Guarda Una mina Sì, guarda Adesso sto prendendo una mina L'ho pagata a 200 dollari Ma come? Cioè, tu hai pagato una mina 200 dollari solo per fare fuori un pupazzo Ma sei impazzo? Ho speso 200 Tutti i nostri soldi Sei impazzo come un pupazzo Ok, guarda un po' Reppy Ho messo delle mine Adesso lo devi fare andare lì però Oh, cavolo Oh, sono esplose Lo devi fare andare lì Vai lì sopra Oh, attenzione, attenzione Buttiamolo lì Oh È saltato in aria Mettiamo una marea di mine Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio Salti in aria Oh, guarda Poverino Oh mio Dio No L'abbiamo praticamente distrutto Questa volta questo pupazzo secondo me non riuscirà più a risuscitare Allora, vediamo cosa possiamo prendere Possiamo comprare qualcosa A me piacevano quelle di prima Posso provare io di nuovo? Vediamo perché quei free Posso provare? Guardiamo Allora, questo no C'è l'arco Abbiamo solo 24 monetine perché tu hai usato tutti i nostri soldi Facciamo così Allora, la balestra Vediamo se c'è qualcosa di bello Oggetti Lo spray Lo spray, lo possiamo prendere? Se lo spray, no, bisogna scioppare Dobbiamo scioppare La dentiera No, vabbè non ci credo C'è il mattarello Allora Proviamo con la dentiera Dobbiamo solo guardare un video Guardiamo questo video Allora, voglio riprovare anch'io con questa No, io voglio riprovare con l'altra Aspetta No, 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 no Ma li scrivi tutti? Non stavo facendo niente Oh 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 ce l'hai fatta All'ultimo ce l'hai fatta Ok adesso tocca a me voglio riprovare con le mine di prima Allora io adesso voglio provare a fare questa cosa Metto le mine dappertutto E poi voglio fare una bella foto Della mia vittoria Vai fai la foto Aspetta aspetta prima devo finire questo livello Vediamo un po' Vai fai la foto Allora adesso voglio mettere Tutte le mine possibili Immaginabili così vediamo come esplode Vado? Tu mettile Mettiamole tutte Comunque voglio dire una cosa io intanto Guarda Volevo dire una cosa Allora volevo dire che Se loro lasciano abbastanza mi piace Noi possiamo sciopparci Nuove armi Ho fatto troppo ridere questa cosa Perché c'era Molly che continuava a dire Io volevo dire una cosa E non la diceva Intanto il pupazzo stava esplodendo E io stavo mettendo le mine dappertutto Allora comunque sia non ci sono più armi disponibili Perché bisogna scioppare Sai cosa sarebbe bella un'altra arma? I pulsanti Così Allora Facciamo così Che se voi lasciate tante mi piace Se il video vi piacerà Scioppiamo E si prendiamo tantissime nuove armi Adesso Non ci credo Non l'hai ancora fatto fuori Ok ragazzi è indistruttibile È indistruttibile Dare a mia moglie tutto Le pupazi si possono solo coccolare Perché non si riescono ad uccidere Dare a mia moglie tutto E noi ci vediamo Al prossimo Fantattico video Ciao Ciao